salve ragazzi e ben ritrovati in questo video probabilmente non uscirà oggi 23 ottobre ma domani 24 ottobre però io sto facendo una reaction alla grand final del primo evento della pro competition di mortal kombat 1 quindi lo sto guardando in presa diretta perché ieri l'ho fatto tipo alle 2 di notte e ovviamente non ero sveglio fino a quell'ora perché sì sono un grandissimo fan di mortal kombat però c'è un limite a tutto fondamentalmente la faccio adesso lo guardo per la prima volta assieme a voi facciamo un'analisi estemporanea diciamo in tempo reale di quello che succede e volevo postare questo tipo di content perché ho visto che comunque il match che abbiamo commentato qualche giorno fa è stato gradito e quindi perché non cristallizzare questo momento analizzando questa grand final una gran final che rimarrà nella storia perché il primo evento importante di mortal kombat 1 quindi anche se dovesse andare malissimo non dovessi fare più contento di questo tipo comunque avrebbe una sua valenza in quanto prima grand final commentata prima di proseguire con il video vi ricordo se vi piace quello che faccio di supportarmi con un like e un'iscrizione al canale seguitemi sui social trovate il link in descrizione e venitemi a trovare in live andiamo subito a vedere di che cosa si tratta questo il bracket che ha portato a questa finale che vedrà quindi ninja killa e sonic fox scontrarsi nessuna sorpresa assolutamente riguardo questi due giocatori perché sono due giocatori di livello assoluto sicuramente tolti i due fratelli cileni sono i due migliori giocatori al mondo di mortal kombat in generale di mortal kombat 1 non lo sapevamo ma a quanto vediamo diciamo riescono a mantenere comunque una certa costanza vediamo un po che cosa succede ninja killa decide di andare con la collaudatissima ormai coppia raiden cyrax mentre sonic fox opta per qualcosa di un po più hipster scegliendo rain che è un personaggio che sta portando avanti ormai da un po e appunto cyrax che ormai sembra veramente una costante di qualsiasi personaggio perché qualsiasi personaggio funziona con cyrax quindi più che un bilanciamento di personaggi manca un bilanciamento dei cameo questo personaggio cameo deve assolutamente essere nerfato perché diciamo che rende il meta del gioco molto molto stantio troppi cyrax che vanno la stessa cosa vanno un pochettino a standardizzare il gioco come sapete io apprezzo molto l'invento la creatività l'essere inventivo dei giocatori e diciamo che con cyrax questa cosa va a farsi benedire perché il 90 per cento delle partite è stringa cyrax stringa cyrax stringa cyrax stringa cyrax che non è bellissimo da vedere quindi cyrax deve essere nel fatto molto pesantemente e questo secondo me andrebbe ad aprire molto il metagame del gioco tuttavia vediamo questa finale che comunque presenta un discreto grado di novità perché appunto rain tra l'altro un personaggio che io utilizzo come main e conosco quindi voglio anche capire se c'è qualcosa di nuovo per me da rubare perché sicuramente sonic fox è un'ottima fonte rinnovabile di nuove strategie a cui attingere qui vediamo che ninja killa si è portato avanti senza troppi problemi con il primo round non c'è stato in realtà molto da dire perché raiden purtroppo è così questa è una bellissima conversione dal proiettile che intercetta il salto veramente non l'ho vista fare a nessuno quindi è il marchio di un campione cancella l'avanti 3 rain per provare la presa ma ninja killa non cade nella finta è difficilissima da teccare quella presa ma a ninja killa questa cosa non interessa solita stringa cancellata nel teleport per essere salva il teleport sarebbe quella pozzanghera volante diciamo quel portale lo lancia con l'elettricità deve breccare necessariamente sonic fox bellissima reazione alla meteora e ninja killa si porta proprio agevolmente sull'uno a zero in una partita che in realtà non ha davvero una storia qui vediamo che ninja killa è molto nervoso io non so come faccia lui sinceramente ad ascoltare musica mentre gioca però lui ci riesce beato lui si prende first hit in questo secondo game ninja killa entra in combo quindi grosso vantaggio per lui combo all'angolo con il solito syrax 429 di danno senza nessun tipo di problema vediamo adesso sony fox che si inventa 23 in aria se tappino con il gabinetto come lo chiamo io lo sciacquone che però non va a buon fine perché ninja killa salta via altra combo che farà poco male mi dicono la sbagliata ma fa 444 di danni una combo sbagliata che fa quel danno non è assolutamente non è assolutamente un problema insomma anche con raid si possono anche sbagliare le combo senza problemi ancora lo mantiene all'angolo lo pizzica deve breccare necessariamente sonic fox prova con lo sciacquone non succede nulla fa un po di cancel per confondere ninja killa che però non si scompone assolutamente cancella si prende il giuno in risposta stringa cancellata nel portale ancora una volta converte bravissimo dal proiettili anti air perché raiden anche proiettili anti air da cui può convertire con una combo piena questa è una cosa che scopro in questo match stringa che parte da due cancella non può pressare perché troppo lontano però riesce a prendersi un'ottima punizione sul proiettile di raiden overhead lo pesca finalmente un due tre ancora una volta va per la stringa giuno con geyser quello il geyser quella doppia bolla sotterranea ed è praticamente la reversa di rain per uscire dalla pressione e arriva la rete ninja killer lo zona lo tiene a distanza nonostante sia in svantaggio vita ma lo svantaggio è molto leggero sonic fox usa molto bene il giuno geyser è qui bravissimo lo chiude con il proiettile perché non so se lo sapete ma i proiettili non sono breccabili sonic fox aveva tre barre quindi avrebbe potuto breccare la combo ninja killer lo sa e piuttosto che finire con un colpo che sarebbe stato breccato finisce con un proiettile che non è breccabile e si porta sul 2 a 0 ricordiamo che ninja killer parte dalla loser bracket quindi anche se dovesse arrivare a vincere questo set al meglio delle tre dovrebbe vincerne un altro sonic fox invece parte dalla winners e di conseguenza gli basta vincere un set al meglio delle tre tuttavia adesso è sotto di due partite stringhetta bello questo salto con 23 indietro 2 viene punito decide di breccare subito sonic fox partita che sembra abbastanza senso unico per per rain sciacquone non funziona altro sciacquone e si tuffa riten vi avevo detto che graiden può punire da fondo schermo praticamente qualunque cosa con il tuffo è una proprietà che è solo lui la stringa sgravissima con syrax che toglie 10 miliardi di danno imparata arriva la combo di sonic fox bella questa combo si prende un altro po di danno e voilà fatal blow lunghissima una delle fatal blow migliori del gioco quella direi insieme appunto a quella direi anche tra le migliori fatal blow del gioco perché non ci facciamo mancare nulla dovrebbe riuscire a buttarlo giù e infatti 421 danni inizia la remontata sonic fox giù 3 2 stringa con i due geyser chiama syrax ma non è finta e c'è il call out da parte di ninja kill si rende conto che finta ci schiaccia in mezzo giù 1 giù 3 gli salta alle spalle lo prende con un cross up fa volare combo che farà come al solito pochi danni ballerine volanti e 462 non facciamo complimenti over head perché riten anche una bella over head che schianta per terra 3 2 in aria da parte di sonic fox mi fa una combatta che non fa troppo danno in realtà ancora bel cancer ancora la stringa con i due ma ride non interessa assolutamente nulla della versione di rain e si tuffa riguadagnando tra l'altro anche il metà schermo quindi era nell'angolo e ritorno a metà schermo può anche decidersi può anche decidere come aggiustarsi l'avversario riten arriva il cancel 1 2 3 queste 3 qua 2 3 qua 2 4 3 perdonate minari alla stringa deve breccare per forza over head giù 1 1 1 4 cancella indietro ma ninja che lo pizzica immediatamente ancora un'alta cyrax ancora giù 3 ok si zonano con i proiettili giù 3 ancora la sua stringa classica avanti 2 1 di rain che è la stringa principale per l'offensiva sarebbe avanti triangolo quadrato se non siete familiari con la nomenclatura di mortal kombat si prende una bella finta quindi finta l'avanti 3 e va di presa indietro e si prende la prima partita del set cominciano con lo studiarsi si prende il primo hit sonic fox devo dire che è molto molto agevole commentare mortal kombat perché ha dei ritmi abbastanza lenti da permettere un commento play by play senza nessun tipo di problema è un po la prima esperienza qui al commento su un match di mortal kombat 1 anche perché ripeto che il primo torneo che fanno quindi però devo dire che estremamente piacevole giuno con cyrax arriva lo sciacquone ancora giuno punito da un altro giuno ancora una volta cyrax giuno geyser uno delle uno dei marchi di fabbrica di sonic fox prova a pizzicarlo con l'elettricità non ci riesce prova l'indietro due sonic fox come anti air ma il tuffo manda all'aria i suoi piani arriva ancora cyrax presa questa presa all'indietro dovrebbe riuscire a combattere con cyrax eccolo lì on 23 in aria perfetto ancora la stringa che parte da triangolo e questa volta la fa intera questa è una sequenza che in cui raiden vince sempre praticamente perché anche se l'avversario para gli fa un sacco di danni parata ancora zona di giù 3 avanti presa anzi indietro presa perdonatemi giù 3 arriva la stringhetta giù 3 giù 1 geyser ancora una volta potete veramente farvi un manuale di quelle che sono le cose più importanti di dire direi se volete usare rain conferma bene non si è visto ma conferma benissimo un indietro 2 in giù indietro 1 ancora una volta la stringa maledetta 11 11 11 4 eccolo la portale avanti 21 sbaglio il cancel prova l'overhead non ci riesce ninja kill ancora cancel torturanti da parte di rain e canse sono falsi comunque ci avrebbe potuto schiacciare ma ovviamente non sai mai quando si ferma e quando decide di andare avanti bello questo 23 in salto meteora meteore in comet 2 presa indietro dalla finta arriva cyrax 123 prova l'overhead la ferma subito vedete a schiacciare non si è mai sicuri sciacquone cancel ancora giù 3 presa di cyrax lo fa volare lo costringe al break ancora in aria prova l'overhead la trasforma in presa e si porta sul 2 a 2 sono in fox felicissimo felicissimo sa di avercelo in pugno sa di ha capito qualcosa non ho ben capito cosa ha capito lui però ha svoltato completamente il set ancora giù 3 ancora presa gli sta facendo molte più prese questo è sicuro un 23 avanti 21 arriva il cancel presa ancora una volta presa indietro ovviamente perché ricordiamo che se il cameo è in cooldown la presa avanti è una spintarella che non fa danni non decide di sacrificare lo spazio si becca un bellissimo with punish è costretto a breccare perché quella combo fa malissimo giù 1 stringa di 2 sbaglia clamorosamente la combo qui li avrebbe fatto molto comodo soprattutto perché cyrax poi lo ha sbalzato fuori dall'angolo tu non puoi passare presa teccata da sonic fox stringa completa da quelle 2112 credo triangolo quadrato quadrato triangolo solita stringa plus frames infox riesce interrompere cancella si procura un po di spazio 21 cancella indietro giù 3 ancora papa papa ok giuno geyser ancora si studiano si studiano 1 1 punizione da parte di raiden e probabilmente se la porta a casa no sbaglia non so se ha resettato o proprio sbagliato è però sonic fox ne approfitta presa preme r2 per amplificare la presa di cyrax chiude match point per sonic fox solita stringa che li toglie 20 per cento di chip damage quali fa malissimo male 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 ancora una volta arriva la ballerina volante sbaglia la combo però e si prende una bella punizione qui ta 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 arriva il setup dello sciacquone eccolo lì prova l'overhead ma ninja killa si alza tardi you shall not pass bellissimo with punish di indietro 2 lo conferma nel launcher ma la combo viene breccata ninja killa prova a tenerlo fuori mamma mia che with punish questa è classe questa è la classe del campione presa indietro dovrebbe farcela perché adesso chiama cyrax vediamo un due tre no attenzione arriva il chip e gli corre sotto gli corre sotto e con il giuno se la porta a casa quindi sonic fox è di fatto il giocatore migliore al mondo di mortal kombat 1 al momento primo vincitore di un torneo difficilissimo in america east coast row down primo evento della del circuito professionistico di mortal kombat 1 io spero che vi sia piaciuta questa analisi spero che vi sia piaciuto il rain di sonic fox fatemi sapere se questo format vi può interessare come al solito e ci vediamo alla prossima